ciao a tutti benvenuti sul mio canale grazie che mi seguite allora oggi ho fatto un po piccola spesa in saponi profumi e mi sono arrivati anche due pigmenti matt opachi che sono ordinati dall'aliexpress allora questo è rimel blu elettrico numero di colore 651 i want it colore bellissimo costava 1 euro 99 in offerta questa eyeliner l'ho cercato dappertutto rimel bianca bellissime un penarellino è troppo 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 bella costava da 10 euro 99 mi hanno scontato per 8 euro 90 poi questo che vedete che vedete pigment rosso acceso numero 28 e questo marron bordeaux è numero 12 tutte e due sono da aliexpress ultima cosa che ho comprato oggi è nuova acqua micelare da garnier dice che è efficace anche per per waterproof makeup e che non lascia muta faccia e elimina anche 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 makeup dall'occhi labbra dal viso non si deve sciacquare prima di prima di usarla dovete sciacquare questa costava 7 euro qualcosa non mi ricordo precisamente poi video vi lascia